Sono particolarmente lieto di potermi rivolgere a questa importante conferenza che è chiamata a riflettere sul rapporto tra la libertà di religione, di coscienza e di parola e i limiti possibili che possono essere posti a questi fondamentali dritti della persona. Questa riflessione svolta alla luce della dichiarazione di Siluva, nella quale il tema della religione è riferito ad un significato ampio, e cioè a un modo di essere, ad uno stile di vita, ad un modo di comportarsi che riguarda a colui che crede. Di qui sorge un primo interrogativo. Si possono porre dei limiti a ciò che la religione rappresenta, non solo in termini di libertà, ma di contenuti? Permettete un rilevo iniziale. La religione non è un semplice concetto che si può definire, comeppure la libertà religiosa non è un semplice punto. Basti pensato alla dimensione individuale e comunitaria in cui si realizza la libertà religiosa, o alla collocazione di questo dritto tra le altre libertà cosiddette libertà intellettuali, pensiero, coscienza, opinione. Si tratta quindi di una libertà collegata non solo ai diritti civili e politici, ma anche a quelli culturali, come pure ad alcuni aspetti di carattere sociale. Questo rilevo ci permette di individuare che esiste un differente atteggiamento degli Stati religiosi, come nel caso dello Stato confessionale, o dello Stato ateo, o dello Stato agnostico, o dello Stato liberale. Oppure a scelte di tipo politico riguardanti la materia religiosa, scelte che sono assunte dagli organi dello Stato per interessi diversi. Magari per consentire che un gruppo religioso sia privilegiato rispetto a un gruppo non religioso, o per consentire ad un gruppo di combattere un altro gruppo religioso. Questi atteggiamenti hanno un immediato effetto sul contenuto della libertà di religione, come già ricordava Benedetto XVI nel suo discorso all'ONU il 18 aprile del 2008, quando sottolineava che il diritto alla libertà di religione è espressione al tempo stesso, individuale e comunitaria, ma è soprattutto una visione che manifesta l'unità della persona, pur distinguendo in questa unità la dimensione del cittadino da quella del credente. Pertanto, ricordava il Papa, cito, è inconcepibile che dei credenti debbano sopprimere una parte di se stessi, e cioè la loro fede, per essere cittadini attivi. «Questo non dovrebbe mai essere necessario, mai necessario rinnegare Dio per poter godere dei propri diritti». Di fronte a questi fenomeni che riguardano la limitazione della libertà di religione, come credenti siamo chiamati a operare in concreto, cercando di superare divisioni ed evitando frammentazioni. Ma evitare frammentazioni non vuol dire venir meno alla nostra fede o al nostro essere credente. trovare ciò che ci misce con altre visioni, anche di carattere religioso, è certamente una strada da percorrere, purché sia percorsa in modo che la ragione naturale e il patrimonio della ragione naturale siano parte essenziale di questo processo. Deve essere allo stesso tempo un percorso impositivo tra le persone, tra le comunità e tra i comuni, deve essere un percorso giusto e cioè conforme a giustizia, quindi non qualcosa che destabilizza o crea conflitti. E infine deve essere certamente una strada aperta ad una visione universale, quella che per lui è il senso della cattolicità, che impone di vedere l'elemento religioso non limitato da conflitti geografici. Cosa dire allora di fronte all'atteggiamento di uno Stato o di organi internazionali che in qualche modo vogliono entrare nella dimensione direttamente legata alla religione e nella sua globalità? Per decenni, anche sul piano internazionale, abbiamo vissuto la tendenza a recuperare il dritto di credere al dritto di non credere, ritenendo che quest'ultimo fosse più importante per garantire il funzionamento delle istituzioni. La libertà di religione è invece anche libertà di manifestare ciò che la religione esprime o può esprimere in termini di vita delle società, in termini di regole o di più ampi spazi per la giustizia. E questo per garantire una sana convivenza tra le persone. In altre parole, i limiti possibili alla libertà religiosa possono essere solo limiti esterni, determinati cioè dalle condizioni dell'ordine pubblico, della salute pubblica, dopo problemi che riguardano la sicurezza nazionale in alcuni aspetti specifici. Ma mai è possibile limitare ciò che è nella sfera più intima della persona, nella sua coscienza. La religione è anche una spiegazione del significato della vita e di come vivere l'esistenza. Di essa fa parte un credo, un modello di comportamento, un culto. Ebbene, la limitazione deve essere fatta in modo tale da tenere conto di questi diversi aspetti e pertanto non potrà mai essere una limitazione che valuta la coscienza del credente. La connessione tra la religione con il pensiero, la coscienza e l'opinione non può essere legata soltanto all'esercizio di queste libertà, ma anche all'obbligo dell'autorità pubblica di rispettarle. Oggi diventa più che mai necessaria questa differenziazione, perché non è mai giustificabile una sovrapposizione tra religione, coscienza, pensiero o parola, comeppure non è possibile ridurre la religione ad altri aspetti. Il tentativo a cui esistiamo quotidianamente è quello di ridurre e confinare la religione alla sfera privata o alla sfera del mondo, e questo in nome della tolleranza, o meglio, per evitare l'intolleranza religiosa. Alla religione la normativa internazionale, quella che dovrebbe ispirare la condotta degli Stati, affianca i concetti di libertà, di non discriminazione, di toleranza, ma precisa anche la portata di questi concetti, per evitare una sovrapposizione o meglio un'equivalenza di fatto con la religione. La tolleranza è un criterio ispiratore di tutti i diritti fondamentali, e cioè qualcosa che riguarda la prevenzione dalla discriminazione, ma non può essere considerata un'alternativa alla religione. Non vi è dubbio che anche le recenti manifestazioni presenti in alcuni Paesi e riversate anche nelle relazioni internazionali portano quotidianamente da leggere il rapporto tra religione e tolleranza come unico modo per garantire la tutela di chi crede. Ma evitare la confusione tra religione e tolleranza significa evitare limiti esterni alla vita e la coscienza del credente. Ci viene in aiuto su questo punto la dichiarazione universale dei tre luoghi, di cui quest'anno celebriremo il 75esimo anniversario. La differenza del linguaggio oggi è adoperato all'interno dei singoli Stati, oltre che delle sede internazionali in cui si imitano le persone ad agire in spirito di tolleranza, in tutte le situazioni legate alla vita sociale, la dichiarazione rivolge invece l'imito ad agire di un verso d'altro, in spirito di fraternità. Oggi sono evidenti gli sforzi di tutta la libertà di religione a quella di pensiero, addirittura a quella di opinione. E questo non solo per l'effetto del secolarismo o del New Age, ma soprattutto per la convinzione di alcuni gruppi fortemente ideologizzati, secondo i quali il dritto dei credenti e delle comunità dei credenti di avere le strime e le opinioni non può influire sulla visione etico-morale di una società. Questo significa che l'arrivento religiosamente fondato non deve essere preso in considerazione da chi fa le regole, le direttive, né dalle scelte della politica. La religione pertanto rimane nella sfera privata, quella del culto al massimo, ma senza una dimensione sociale e questo viene proposto per garantire il pluralismo di pensiero e di opinione, che secondo questi gruppi caratterizzerebbe la società contemporanea. Di fronte a questi elementi credo vada fatto a ogni sforzo per salvaguardare l'unità tra la sfera privata, cioè la persona che è credente, e la dimensione pubblica, cioè la persona che è cittadina. Separare la persona umana e insidioso, perché escludere l'elemento religioso dalla governanza dei processi politici e istituzionali, e in più elimina ogni possibile apporto pubblico di un etos religiosamente fondato, nella preparazione di leggi o anche in quella che può essere l'attività delle istituzioni. Una prima serie di effetti di tale impostazione riguarda direttamente la dimensione interna delle religioni e delle comunità dei credenti. Le istituzioni religiose, cioè, sono chiamate a dare risposta di fronte alla perdita di senso religioso, alla più ampia secolarizzazione o alle diverse forme di attesa. Questo comporta che la dimensione religiosa è chiamata ad essere non più solo segno e strumento di diffusione, ma ad assumere una funzione diversa, e cioè capace di leggere i segni dei tempi, i contenuti che emergono nelle nostre società e quindi a proporre nuove forme di evangelizzazione, nuove forme di diffusione dell'elemento religioso, salvaguardandolo da qualunque limitazione esterna. È chiaro che se una comunità e i suoi membri sono fortemente preparati, sarà difficile che anche un atto legislativo sia approvato senza restrizione o senza letture diverse. Un secondo aspetto riguarda la capacità di disposta che i credenti hanno di fronte all'indifferenza o all'avversione verso la religione. Sono atteggiamenti che nelle nostre società molto spesso vengono giustificati in nome del rispetto dei diritti umani, ma dimenticando che la persona a quale creatura libera ha il dritto di stabilire i suoi rapporti con Dio nell'intimità della propria coscienza, senza coercizione, è quanto ci ricorda il Concilio Vaticano II nella dichiarazione di unità di sumare. Qui diventa importante il profilo del diavolo, che come si diceva può essere uno strumento, ma non un limite. Una seconda serie di effetti, sempre alla luce della dichiarazione di Siruva, riguarda direttamente il profilo esterno, e cioè il modo con cui i credenti possono operare dal di dentro delle società di cui sono parte. Affermare la libertà di religione, e quindi questo dritto, così come lo abbiamo individuato, significa sostenere l'autonomia di ogni persona, la sua libertà non essere impedito o limitato, perché segue la propria coscienza e il suo credito. Si tratta quindi di prevenire e eliminare tutti gli atteggiamenti che creano discriminazione in ogni fuoco. Così significa anche superare una visione della laicità dello Stato e delle sue istituzioni che porta ad escutti ricredenti dalla vita pubblica. C'è un ultimo aspetto che penso sia importante sottolineare. Mi riferisco all'educazione e alla formazione, sia quella impartita direttamente dallo Stato, sia quella impartita dalle altre agenzie educative, comprese le istituzioni religiose. Il dritto di insegnare alla luce di una dottrina e di una visione che, come dicevamo, costituisce senso della vita, non può essere escluso dall'azione statale, altrimenti tale azione sarebbe discriminatore e intollerante verso chi crede. Concludo citando la dichiarazione di Siluva, che pone come elemento fondamentale l'idea che, cito, l'umanità ha sempre cercato una convivenza armoniosa, come strada per creare un futuro armonioso per l'uomo. A questo futuro deve necessariamente concorrere anche l'elemento religioso, così come professato e diffuso dalle comunità di credenti. Allo Stato e le sue istituzioni, come pure alla comunità internazionale, nella sua dimensione fatta di strutture e di regole comuni, va lasciato l'onere di garantire questo dritto fondamentale, non di limitare. Come sostiene Papa Francesco, sempre e dovunque possa essere rispettata la libertà di coscienza e possono il cristiano dare esempi di coerenza con una coscienza retta e illuminata dalla parola di Dio. Sono parole dell'udienza generale del 17 giugno 2020. Tutto questo soprattutto quando la limitazione è fatta in modo da escludere chi crede e le comunità dei credenti dalla vita pubblica, e cioè la loro capacità di manifestare una propria visione di alcune realtà tipiche e strutturali della vita delle persone. La vita stessa, la famiglia, la scuola, la formazione. Mai la coscienza può essere toccata e con essa la libertà di religione che resta fondamento di ogni altro dritto. Grazie. Grazie.